Referente dell'ente nazionale Libertas, caratteristiche di questo posto? Buongiorno a tutti, questo posto sicuramente ha delle potenziali uniche in Liguria ma anche in Italia, l'abbiamo accettato da tempo, abbiamo scelto proprio questo perché è assolutamente per la posizione, per la grandezza, per tutto il potenziale che potrà essere sviluppato, in 10 minuti si raggiunge comodamente il centro, in 10 minuti si raggiunge comodamente la spiaggia, i servizi forniti in questo posto sono, se vuole per un turismo sociale, sono servizi da Hotel Quattro Stelle per la spiaggia, per la vista, per il relax e per la qualità del cibo. Grazie per la visione!